Anche io ringrazio gli organizzatori del meeting per avermi invitato a questa presentazione. E quello che dirò è semplicemente qualche suggestione che traggo sul tema generale di quest'anno del meeting partendo dal punto di vista molto particolare che è quello degli incontri che mi vedono coinvolto come moderatore. Ma devo dire anche un po' sotto il contraccolpo di quello che ho ascoltato, dai saluti introduttivi assolutamente non formali per come io li ho almeno colti e questa presentazione dello spettacolo inaugurale di cui abbiamo visto e ascoltato. Ecco, io devo dire, quest'anno l'impressione che ho è che sicuramente il titolo giocherà un ruolo tutti gli anni ovviamente, ma quest'anno mi sembra che il titolo ci consenta di entrare in mezzo al tema. Perché questo verso le periferie del mondo dell'esistenza, che sicuramente evoca Papa Francesco, è quello che ci ha detto sin dall'inizio, che verso le periferie del mondo dell'esistenza, che indica un moto, indica un movimento, ecco in questo il destino non abbia lasciato solo l'uomo, mi pare che sia proprio da un lato la contraddizione e dall'altro la dinamica che oggi viviamo. Cioè questo fatto che il rischio mortale per la nostra società sia quello di un, paradossalmente, in una società in cui tutto sembra avere un tasso di mutamento altissimo e velocissimo, ma che diventi tutto terribilmente identico, tutto terribilmente, per usare le parole del professor Farouk, che mi hanno molto colpito, c'è soltanto una cosa peggiore del conflitto tra stereotipi, il dialogo tra stereotipi, che vuol dire che si scambiano parole sotto le quali non c'è più nulla. E questo sarebbe veramente triste. In questo senso mi permetto di dire che questo titolo così dinamico, quest'idea del verso le periferie, pone secondo me un tema che mi pare sia centrale, poi ho visto anche in altri incontri, è un po' come sviluppo e filo, che è quello della relazione. In questo senso mi sembra che ci sia una sorta di tratto d'unione ideale anche con l'altro Papa Emerito Benedetto, quando, in questo io sento un'assonanza non tanto logica quanto proprio quasi di musicalità delle due espressioni, da un lato questo andare verso le periferie, questo non aver paura di spingersi oltre il famoso aprire le finestre del bunker del Papa Benedetto nel famoso discorso al Bundestag, al Parlamento tedesco, in cui il Papa, oggi Emerito, invitava a tutti a non aver paura di riaprire le finestre che ci mettono in contatto con la realtà, a non aver paura che l'uomo non deve, come dire, il rischio più grave è quello di crearsi un ambiente artificiale, un ambiente finto, in cui l'aspetto di artificialità sta nel fatto che l'uomo pensa di poter controllare tutti gli aspetti, pensa di poter controllare tutte le variabili. E così, come dire, creando questa sorta di grande illusione di potenza, ecco, il punto che hanno in comune questi due appelli, diciamo, l'uno ad andare verso le periferie del mondo e dell'esistenza e l'altro ad aprire le finestre in modo tale che la ragione possa riprendere il rapporto con la realtà, il punto in comune mi sembra è questa non aver paura della libertà, questo mi sembra, se dovessi trovare un titolo che mette insieme almeno i tre incontri, il punto di vista forse un po' parziale, ma insomma i tre incontri che mi vedono coinvolto, non aver paura della libertà. Oggi mi sembra che sia un momento in cui viviamo questo paradosso, nella società che fa della libertà forse il suo emblema, oggi è dato a registrare una paura, un terrore direi quasi della libertà, è una crescita esponenziale delle regole, delle istituzioni, delle limitazioni, dei protocolli, dei codici, delle best practices, delle procedure, non è nient'altro che questa grande paura della libertà. Il primo incontro in cui sarò coinvolto è un dialogo con il professor Joseph Weiler, un grande amico del Meeting, professore che attualmente è doppiamente legato all'Italia, non solo per l'amicizia con il Meeting, ma per il fatto che in questo anno ha preso ufficio dirigendo, diventando presidente dell'Istituto Universitario Europeo di Fiesole, e quindi lui per almeno tre anni sarà qui a dirigere questa prestigiosissima istituzione, l'unica istituzione accademica di livello europeo direttamente promossa dall'Unione Europea. Con il professor Weiler, che sappiamo di religione ebrea, faremo un dialogo che proprio va a questo tema, prenderà spunto essenzialmente da un intervento che Don Julian Carron ha fatto presentando un volantino sull'Europa che c'è stato in occasione delle recenti elezioni europee, e in realtà in questa introduzione prende spunto dal tema dell'Europa per affrontare una questione centrale, e questa vorremmo provare a delinearla in questo dialogo con il professor Weiler. La questione centrale è questa, oggi alcune parole decisive per il vivere comune, parole come persona, lavoro, ragione, solidarietà, libertà, queste parole hanno perso il loro contenuto. Cioè noi ripetiamo delle parole, ma molto spesso sotto queste parole, le ripetiamo perché nel linguaggio inevitabilmente le usiamo, ma molto spesso sotto queste parole non c'è più uno spessore di esperienza tale da renderle significative. E' come se, in un certo senso, le parole non fossero più l'indice, l'indicatore di un'esperienza, ma le parole fossero tornate ad essere un po' un suono, un fiato della voce, un sussurro. Questo è molto particolare, ed è una condizione che oggi ci troviamo a vivere, ed è uno degli aspetti più drammatici da un certo punto di vista. Cioè questo fatto che molto spesso le parole come i verbi abbiano perso il loro modo indicativo, che è quello invece fondamentale, cioè la capacità di indicare cose. In particolare c'è una parola sulla quale ci soffermeremo, perché si sofferma questo testo, che è la parola libertà, come dicevo prima. Oggi c'è un'idea diffusa di libertà, per cui ci si sente liberi quando si riesce, o quando si afferma la possibilità di non avere legami. Cioè la libertà viene fatta coincidere con l'assenza di legami. Se dovessimo fare un'indagine sociologica, anche un po' così, senza troppa pretesa di scientificità, ma se la proviamo a fare un'indagine tra i suoi studenti a scuola, oggi la libertà è un po' questa idea di non dover dipendere da nessuno. Il problema è che questa concezione di libertà, che è molto affermata, contrasta con un dato di realtà fondamentale. E il dato di realtà fondamentale è che invece l'uomo per sua stessa natura dipende. Esiste solo se ha un legame, a partire dal contesto ambientale in cui vive. L'uomo senza legami è un'ipotesi astratta, non esiste come dato reale. Però oggi viviamo questo contrasto fortissimo tra una idea di libertà sciolta, assoluta nel senso di sciolta dai legami, con il dato di fatto di un uomo che invece per sua stessa natura è inserito in una serie di relazioni, in una serie di rapporti, a partire dai bisogni che ha. Per rispondere ai bisogni che ha, l'uomo deve stabilire legami. In questo senso il dialogo con il professor Weiler sarà molto interessante, anche perché un altro degli intellettuali che ci sarà al meeting quest'anno, che è il professor Magatti, che insegna sociologia, presenterà proprio un suo libro su questo, ma il cuore della sua tesi è che oggi noi viviamo una fase adolescenziale della libertà. Cioè a dire, presente come fanno gli adolescenti, la fase adolescenziale è quella fase in cui si afferma a sé negando il legame con ciò o coloro da cui si dipende. E attenzione, come fase nella vita, è assolutamente fisiologico che ci sia, anzi ci deve essere la fase in cui si contestano o si mettono alla prova, si verificano le ipotesi che la tradizione ci dà. Ma pensare che la libertà dell'uomo sia eternamente rimanere in questa fase adolescenziale, cioè continuare a tagliare tutti i legami, questo crea purtroppo questa condizione di totale instabilità e fragilità in cui oggi ci troviamo. Tanto che, questo è un po' l'altro grande tema che vogliamo discutere, tanto che le stesse declinazioni della parola libertà diventano equivoche. La prima, libertà religiosa, ad esempio, è uno dei temi chiave del meeting nella sua storia. È chiaro che libertà religiosa può essere intesa come la libertà di esprimere il culto, cioè di avere lo spazio o i luoghi per cui ognuno possa esprimere il modo con il quale concepisce la sua relazione con l'infinito, con le ipotesi di divinità che esistono. E questo certamente fa parte della libertà religiosa, la possibilità di esprimere il culto. Ma questa è una nozione assolutamente ridotta di libertà religiosa, perché la libertà religiosa non si esprime solo così, cioè avendo lo spazio o la possibilità di praticare il culto. La libertà religiosa è estremamente più radicale ed è la stessa libertà che ha l'uomo di esprimere il suo senso religioso, cioè quella domanda fondamentale che il sassolino e la poesia di Federico Fellini ci ha fatto vedere poco fa. Quella domanda lì è l'origine dello sforzo religioso dell'uomo. E quindi la libertà religiosa e tutta la creatività sociale sono in realtà due facce della stessa medaglia. In una idea positiva di libertà religiosa, la libertà religiosa sta all'uomo come la sua capacità di costruire sta all'imprenditore. E' chiaro che oggi ci sono due concezioni di libertà religiosa che si fronteggiano. La prima che dice no, è da ridurre in uno spazio privato, in uno spazio che non tocchi l'azione, dall'altra. Però attenzione, altro punto. La libertà religiosa diventerà anche il dibattito sulla libertà dalla religione. Questo è un grande tema che col professor Weiler sarà inevitabile affrontare. Questa è la grande conquista, se volete, del concilio e della chiesa cattolica da quando con la dignità tisumane ha riaffermato che la libertà religiosa vuol dire anche la libertà di non credere. E questa libertà va difesa perché l'atto di adesione alla religione o è libero fino in fondo, cioè o c'è anche la possibilità di dir di no, oppure questo atto in qualche maniera non risponderebbe a quella totalità, a quella pienezza di espressione dell'umano che solo rende dignitoso un gesto di adesione ad una religione. Il tema della profezia e della poesia che veniva prima evocato è esattamente un po' dentro questo, cioè questa capacità di creare della poesia, questa capacità di porre novità, è direttamente proporzionale alla libertà dell'uomo di esprimere tutta la sua domanda religiosa. In questo senso, se l'uomo oggi dipende come dato di fatto, ma la libertà viene concepita come assenza di legami, lo strumento che oggi più facilmente si utilizza per tagliare questi legami è il diritto. Questo è l'altro incontro che mi troverò a moderare, il rovescio del diritto, titolo che a me piace molto a dire la verità, con Tommaso Epidendio che è un giudice del Foro di Milano e attualmente è assistente alla Corte Costituzionale di un giudice costituzionale e con il professor Carter Sneed dell'Università di Notre Dame negli Stati Uniti, due giuristi, l'uno applicato, l'altro teorico, uno molto coinvolto, un giudice penale, Tommaso Epidendio, l'altro un esperto di bioetica, quindi due continenti diversi, l'Europa e l'America. Ma l'idea è proprio questa, il rovescio dei diritti, cioè l'idea è il rovescio del diritto, l'idea è oggi si ha una tale paura della libertà che si rinvia tutto alla regola, come se un insieme di regole perfette possano impedire il male o possano impedire l'atto immorale. Dall'altra parte l'idea del rovescio del diritto è quest'idea che il diritto viene sempre più usato per tagliare i legami. Voi pensate, io insegno anche diritto, quando ho studiato diritto, quelli che forse qui hanno gli avvocati o chi ha una formazione tipo giuridico ricorderà che nei manuali di diritto c'era scritto che la differenza tra gli atti e i fatti sta in questo, che gli atti dipendono dalla volontà delle persone, i fatti no. I fatti sono quelle cose che la volontà dell'uomo prende come dati sui quali non si può intervenire. E di solito nei manuali c'era la nota, esempi di fatti sono la nascita, la morte e poi si diceva sempre le solite cose tipo i fiumi che spostandosi aumentano, restringono la proprietà delle persone, i cosiddetti casi di scuola, cose un po' strane. Però mi ha sempre colpito che nascere e morire sono sempre stati considerati fatti, cioè non prodotti della volontà dell'uomo, ma dati di fatto rispetto ai quali diffusa di libertà per cui ci si sente liberi quando si riesce o quando si afferma la possibilità di non avere legami. Cioè la libertà viene fatta coincidere con l'assenza di legami. Se dovessimo fare un'indagine sociologica anche un po' così, senza troppa pretesa di scientificità, ma se la proviamo a fare un'indagine tra i suoi studenti a scuola, oggi la libertà è un po' questa idea di non dover dipendere da nessuno. Il problema è che questa concezione di libertà che è molto affermata contrasta con un dato di realtà fondamentale. E il dato di realtà fondamentale è che invece l'uomo per sua stessa natura dipende. Esiste solo se ha un legame, a partire dal contesto ambientale in cui vive. L'uomo senza legami è un'ipotesi astratta, non esiste come dato reale. Però oggi viviamo questo contrasto fortissimo tra una idea di libertà sciolta, assoluta, nel senso di sciolta dai legami, con il dato di fatto di un uomo che invece per sua stessa natura è inserito in una serie di relazioni, in una serie di rapporti, a partire dai bisogni che ha. Per rispondere ai bisogni che ha, l'uomo deve stabilire legami. In questo senso il dialogo con il professor Weiler sarà molto interessante anche perché un altro degli intellettuali che ci sarà al meeting quest'anno, che è il professor Magatti, che insegna sociologia, presenterà proprio un suo libro su questo, ma il cuore della sua tesi è che oggi noi viviamo una fase adolescenziale della libertà. cioè a dire, presente come fanno gli adolescenti, la fase adolescenziale è quella fase in cui si afferma a sé negando il legame con ciò o coloro da cui si dipende. E attenzione, come fase nella vita, è assolutamente fisiologico che ci sia, anzi ci deve essere la fase in cui si contestano o si mettono alla prova, si verificano le ipotesi che la tradizione ci dà. ma pensare che la libertà dell'uomo sia eternamente rimanere in questa fase adolescenziale, cioè continuare a tagliare tutti i legami, questo crea purtroppo questa condizione di totale instabilità e fragilità in cui oggi ci troviamo. Tanto che, questo è un po' l'altro grande tema che vogliamo discutere, tanto che le stesse declinazioni della parola libertà diventano equivoche. La prima, libertà religiosa, ad esempio, è uno dei temi chiave del meeting nella sua storia. È chiaro che libertà religiosa può essere intesa come la libertà di esprimere il culto, cioè di avere lo spazio o i luoghi per cui ognuno possa esprimere il modo con il quale concepisce la sua relazione con l'infinito, con le ipotesi di divinità che esistono. E questo certamente fa parte della libertà religiosa, la possibilità di esprimere il culto. Ma questa è una nozione assolutamente ridotta di libertà religiosa, perché la libertà religiosa non si esprime solo così, cioè avendo lo spazio o la possibilità di praticare il culto. La libertà religiosa è estremamente più radicale ed è la stessa libertà che ha l'uomo di esprimere il suo senso religioso, cioè quella domanda fondamentale che il Sassolino e la poesia di Federico Fellini ci ha fatto vedere poco fa. Quella domanda lì è l'origine dello sforzo religioso dell'uomo. E quindi la libertà religiosa e tutta la creatività sociale sono in realtà due facce della stessa medaglia. In una idea positiva di libertà religiosa, la libertà religiosa sta all'uomo come la sua capacità di costruire sta all'imprenditore. E' chiaro che oggi ci sono due concezioni di libertà religiosa che si fronteggiano. La prima che dice no è da ridurre in uno spazio privato, in uno spazio che non tocchi l'azione, dall'altra. Però attenzione, altro punto, la libertà religiosa diventerà anche il dibattito sulla libertà dalla religione. Questo è un grande tema che col professor Weiler sarà inevitabile affrontare. Questa è la grande conquista, se volete, del Concilio e della Chiesa Cattolica da quando con la dignità tisumane ha riaffermato che la libertà religiosa vuol dire anche la libertà di non credere. E questa libertà va difesa perché l'atto di adesione alla religione o è libero fino in fondo, cioè o c'è anche la possibilità di dir di no, oppure questo atto in qualche maniera non risponderebbe a quella totalità, a quella pienezza di espressione dell'umano che solo rende dignitoso un gesto di adesione ad una religione. Il tema della profezia e della poesia che veniva prima evocato è esattamente un po' dentro questo, cioè questa capacità di creare della poesia, questa capacità di porre novità è direttamente proporzionale alla libertà dell'uomo di esprimere tutta la sua domanda religiosa. In questo senso, se l'uomo oggi dipende come dato di fatto, ma la libertà viene concepita come assenza di legami, lo strumento che oggi più facilmente si utilizza per tagliare questi legami è il diritto. Questo è l'altro incontro che mi troverò a moderare, Il rovescio del diritto, titolo che a me piace molto, e che con Tommaso Epidendio che è un giudice del Foro di Milano e attualmente è assistente alla Corte Costituzionale di un giudice costituzionale e con il professor Carter Sneed dell'Università di Notre Dame negli Stati Uniti. Due giuristi, l'uno applicato, l'altro teorico, uno molto coinvolto, un giudice penale, Tommaso Epidendio, l'altro un esperto di bioetica, quindi due continenti diversi, l'Europa e l'America. Ma l'idea è proprio questa, il rovescio dei diritti, cioè l'idea è il rovescio del diritto meglio, cioè l'idea è oggi si ha una tale paura della libertà che si rinvia tutto alla regola. Come se un insieme di regole perfette possano impedire il male o possano impedire l'atto immorale. Dall'altra parte, l'idea del rovescio del diritto è quest'idea che il diritto viene sempre più usato per tagliare i legami. Voi pensate, io quando ho studiato, io insegno anche diritto, quando ho studiato diritto, quelli che forse qui hanno, insomma, gli avvocati o chi ha una formazione di tipo giuridico ricorderà che nei manuali di diritto c'era scritto che la differenza tra gli atti e i fatti sta in questo, che gli atti dipendono dalla volontà delle persone. I fatti no. I fatti sono quelle cose che la volontà dell'uomo prende come dati e sui quali non si può intervenire. E di solito nei manuali c'era la nota esempio di fatti sono la nascita, la morte e poi si diceva sempre le solite cose tipo i fiumi che spostandosi aumentano o restringono la proprietà delle persone. I cosiddetti casi di scuola cose un po' strane. Però mi ha sempre colpito che nascere e morire sono sempre stati considerati fatti cioè non prodotti della volontà dell'uomo ma dati di fatto rispetto ai quali l'uomo non può farci nulla. E oggi la tecnica ci dice che lo scenario è completamente diverso. Nascere e morire diventano prodotto di una decisione. E dunque il diritto come il grande strumento attraverso il quale si cerca di ottenere quello che la natura da un lato la biologia da un lato la società dall'altro non consentono all'uomo cioè tagliare i legami. E per questo provando a risalire alle cause di tutto questo il terzo incontro che Modellerò si intitola chi ha secolarizzato l'Europa espresso in forma di giallo e di thriller ma il tema è una discussione con il professor Brad Gregory che è un professore di storia insegna attualmente all'università di Notre Dame nell'Indiana ma viene da Stanford e da Harvard è uno dei più promettenti e importanti studiosi storici oggi viventi negli Stati Uniti il quale in particolare ha scritto un libro che si chiama The Unintended Reformation che è un gioco di parole sulla riforma il libro sulla riforma protestante che è stato recentemente tradotto in italiano da vita e pensiero insieme a lui ci sarà il professor Mauro Magatti che citavo prima sociologo dell'Università Cattolica di Milano e Adrian Pabst che insegna all'Università di Kent e con loro cercheremo di approfondire qual è la radice o una delle radici di questa condizione della libertà oggi e sicuramente una delle grandi radici è quella enorme rivoluzione culturale sociale politica filosofica che è stata la riforma la riforma di Lutero e la cosa interessante del titolo di questo libro The Unintended Reformation è che come dire il gioco di parole è su questo Unintended vuol dire la riforma non voluta la riforma accaduta quasi per caso perché l'idea di fondo è che Lutero non voleva le conseguenze che oggi sono sotto gli occhi di tutti cioè che la religione è diventata un aspetto privato che lo Stato tende in tutti i paesi protestanti ad avere una posizione ancora più forte che ha da tutte le altre ovviamente l'interesse di Lutero era altro l'interesse di Lutero era quello di un'adesione più vera più pura più sincera al cristianesimo il problema è che il metodo che le ho usato per riformare il cristianesimo ha prodotto come risultati non previsti unintended le condizioni attuali in cui viviamo le grandi condizioni culturali e filosofiche in cui oggi viviamo e quindi questo forse dà anche una strada cioè l'ambizione poi non so se riusciremo l'Emilia ci dirà se ce l'abbiamo fatta o no in questo incontro l'ambizione è quella di avendo individuato qual è questa origine questa grande frattura della riforma protestante quale può essere la via d'uscita cioè recuperare una integralità ricordiamo sempre che fu Paolo VI a denunciare il rischio dell'inserimento di un pensiero protestante dentro la stessa vita cristiano-cattolica quindi l'idea di riprendere questa integralità della proposta della fede come rivitalizzazione della stessa della stessa società che è la cosa di cui mi pare oggi ci sia più bisogno e se questo riuscissimo sarebbe sicuramente sarei estremamente contento di tutto quello che in questi tre incontri col meeting avremmo provato a fare grazie 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 a tutti